Salve ragazzi e bentornati sul canale, siamo sempre su Fortnite per vedere le novità del negozio oggetti andiamo subito a vederle velocissimamente e abbiamo un mando all'armadietto d'airpoint bellissimo risparmiamo 1600 di buck, 2400 anziché 4000 e abbiamo fira bellissima col suo dorso decorativo con il deltaplano, una figata esagerata, lo strumento di raccolta, vediamolo meglio, ok? e abbiamo anche l'emote, eccomi, molto molto figo, veramente bello oppure possiamo prendere tutto quanto separatamente e abbiamo starter 1200 di buck con due stili selezionabili e il suo dorso decorativo anche lui con due stili selezionabili oppure possiamo prendere custom, bellissimo pure lui, due stili selezionabili col dorso decorativo neturbaino 1500 di buck, oppure possiamo prendere zuki, questa pure è fighissima, due stili selezionabili col dorso decorativo e ancora abbiamo vespa di rame, questo molto molto bello con il dorso decorativo è il cacciatore striato, sempre a 1500 di buck oppure abbiamo il pugno della forza, strumento di raccolta, 1200 di buck e ancora abbiamo acule, una copertura a 300 di buck e ancora kira, bellissima, 1200 di buck col dorso decorativo poi ancora abbiamo i rame bloccanti, strumento di raccolta abbiamo un deltaplano molto figo e più in basso abbiamo le offerte giornaliere ipernova anche questo è molto bello, 1200 di buck col dorso decorativo oscilloscopio che carino oppure possiamo prendere punto intermedio 1200 di buck col dorso decorativo centro trasmissioni e ancora abbiamo pochi, un emote e ancora tempo da mimi, un altro emote poi abbiamo a pioggia, ancora un altro emote ancora un altro emote e più in basso abbiamo il bundle offerte speciali in sconto 9,91€ anziché 15,99€ e quindi abbiamo schelli ombro, uccello ombra, ombra perfetta i loro dorsi decorativi, eccoli qua e la copertura, molto interessante poi abbiamo il pacchetto maestri di magma 14,99€ e abbiamo cun incenditore col dorso decorativo Ragnar occhi in fusione col dorso decorativo occhi di braccia col dorso decorativo e più avanti invece che cos'altro abbiamo il pacchetto dominio di Dizzi 3,99€ quindi Dizzi, dorso decorativo, strumento di raccolta e 600 vi bacchi in omaggio e più avanti ancora abbiamo il bundle ride bene, ride bene, ride ultimo bundle con Joker, 29,99€ quindi abbiamo Joker, poison ivy, remida dorsi decorativi, florileggio, ghigno di morte l'emblema di mida poi abbiamo il suente di raccolta l'incoronatore lasciata del tiromancino vendetta di Joker e per finire la scia pesca una carta e in più vi danno pure 1000 v-back in omaggio e poi ovviamente abbiamo i 25 livelli di pass battaglia la crew di Fortnite, l'abbonamento mensile ogni mese 11,99€ video di pass battaglia incluso il pacchetto crew mensile, 1000 v-back il set crew legacy e se ti iscrivi da settembre a novembre puoi ottenere i stili prime ombre bonus questi sono gli oggetti della crew il lupo in fiamme che è molto molto bello poi abbiamo il dorso decorativo le zanne in fiamme lo strumento di raccolta e per finire il pacchetto protocollo che possiamo sbloccare ogni mese con il set crew legacy in questo modo qua tutto molto molto caruccio ragazzuoli per oggi lo shop finisce qua non ci sono shop molto molto pini di roba io vi ricordo se volete supportarmi vi fa piacere supporto un creatore codice creatore lord creamo premio pulsante accetta tutti gli acquisti che farete supporteranno il canale detto questo ragazzuoli vi auguro una buona giornata e ci vediamo sempre sul canale ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti